Sono Terri Abruzza, la contadina Calabro Svizzera, di 61 anni, sono calabrese ma vivo all'estero e ho due figlie e otto nipotini e grazie a Paolo Tetti che mi ha dato questa opportunità se vivo all'estero di partecipare a questo concorso Miss e Mamma Pollice Verde. Come potete vedere io ho vinto nel 2015 la fascia di Miss e Mamma Simpatia e nel 2006 la fascia di Miss e Mamma Simpatia. Io di Mersia Lima ho avuto problemi di salute e per uscire da questo momento un po' triste ho cominciato a dedicarmi al giardinaggio. Tutti dicevano che io avrebbe prodotto verde ma questo si sa che il padre è un contadino. Io ho voluto prendere questo nomignolo, come dire, questo titolo di Terri Abruzza, la contadina Calabro Svizzera in onore suo. In realtà è vero perché io pianto dei semini e dopodiché faccio queste piantine come potete vedere. Ne ho fatti diversi perché a ogni piantina voglio dare il nome del mio libovino, di ogni mio libovino. Quindi ho messo i semi, sono venute le piantine e adesso mi trappianto nella terra in questo pezzo di giardinetto. Questo mi aiuta tantissimo a stare bene con me stessa perché comunque è un hobby rilassante, un hobby che fa veramente piacere coltivare e occuparsi un po' di questa attività che poi non è un'attività, è un divertimento. E come potete vedere ho anche piantato una bella, questo lo uscirò a dicembre a mettere un po' di palline e mettere un po' di acqua e un altro diventato. Di più vi un abbraccio a tutti, mi fa piacere partecipare e un saluto da Terri, la contadina Calabro Svizzera. Grazie.